Conviene acquistare il quinto starter set di One Piece? Quali carte saranno contenute in esso? E che novità porterà questo articolo alle dinamiche di gioco del TCG targato Bandai? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Due giorni fa, precisamente in data 3 febbraio, il gioco di carte basato sul capolavoro ideato dal maestro Oda ha dato alla luce un nuovo starter deck, il quinto in ordine di pubblicazione ed il secondo in termini di colore. Infatti il mazzo in questione, che vedrà Shanks in rosso a esserne il leader, riproporrà il viola come tonalità principale, andando a rafforzare così le fila di quel lato cromatico del gioco che già dal primo set ha visto bestioni, il quale principale pensiero è sempre stato distruggere qualsiasi cosa gli si parasse innanzi. E così con l'imperatore arriveranno anche personaggi illustri comparsi nei vari lungometraggi di animazione, tra i quali vedremo Bullet dal film Stampede, Tesoro da Gold e Uta dal recente Red. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo la lista dello starter deck One Piece Film Edition rispondendo anche alla domanda, converrà acquistarlo? Andiamo a dargli un'occhiata. La confezione del mazzo vedrà la tipica immagine in primo piano delle carte di riferimento. In questo caso lo stesso Shanks, in qualità di leader, ed Uta, l'ultima protagonista del film di animazione dedicato a One Piece, con alle loro spalle, a partire da sinistra verso destra, le figure di Shiki, Douglas Bullet, Gil Tesoro e Zephyr, con la dicitura riportante il nome del prodotto e il numero dello starter in basso sulla parte frontale, la numerazione e tutti i riferimenti all'articolo in questione sulle parti laterali sinistra e destra, ed infine il contenuto all'interno del prodotto, la lista del mazzo a seguire in basso, con tutte le informazioni legali riguardanti il produttore e la casa madre riportati sulla parte dorsale. Una volta aperta la scatola, al suo interno potrete trovare una guida rapida sul regolamento generale, dove sarà presente, se volterete il foglio, anche un campo da gioco con zone contrassegnate in chiaro, atte a facilitarvi il processo di preparazione ad una partita se sarete alle prime armi ed il deck composto da 50 carte più il leader dove accompagneranno i soliti 10 don pronti per essere utilizzati. Ma scopriamo assieme attraverso una carrellata veloce quali saranno gli elementi contenuti in questo starter. Personalmente ho testato questo deck attraverso delle partite amichevoli e le carte che mi sono sembrate davvero interessanti, a tal punto da volerle integrare all'interno di un deck di Kaido, che se funzionerà in torneo vi mostrerò in una profile futura, sono le 4 copie di Yain, che con la sua abilità on play vi permetterà di posizionare un don esaurito dalla sua pila dedicata in gioco ed avendo 5000 punti di forza con costo pari a 4 risulterà essere anche un'ottima attaccante, le 2 copie di Guild Tesoro a costo 5000 e 6000 in termini di potenza che quando attaccherà privandovi di due don vi permetterà di pescare due carte dalla cima del mazzo, le 4 copie di Baccarat con costo 3000 e 5000 di forza che sarà praticamente uno zoro rosso con l'unica pecca per niente trascurabile che per la carta viola mancherà l'abilità rush ma per pressare l'avversario nei primi turni di gioco potrà sempre tornare utile l'event in doppia coppia Lion Street Imperial Air Bind che con l'utilizzo di due don facendone di seguito tornare altrettanti nel loro mazzo metterà KO un personaggio avversario con costo pari a 5 o inferiore, quindi carte come Queen potranno dirigersi verso la pila degli scarti senza troppi complimenti con effetto trigger che vi consentirà di settare un don in stato di attivo dalla sua pila in campo ed ultimo ma non per importanza la duplice copia di Douglas Bullet che con costo 8 e 10 mila punti di potenza durante il vostro turno una sola volta per turno riposizionando 4 don dal campo al mazzo dedicato a questi ultimi andrà ad esaurire due character con costo pari a 6 o inferiore sotto il controllo avversario ottenendo in seguito un pericolosissimo double attack che minaccerà seriamente le vite rivali. Questo starà a significare che una stragrande maggioranza di personaggi potrà divenire preda facile di questo terribile pirata se ovviamente vi infastidiranno mettendovi i bastoni in mezzo alle ruote per la riuscita con successo della vostra strategia di gioco o per vanificare la presenza di blocker fastidiosi rivali come la già menzionata Queen o addirittura una boa blu. mentre provo un certo interesse soprattutto per eventuali sviluppi futuri per le quattro copie di Dottor Indigo che con costo 2 e 4 mila di forza potrà dire la sua in meta più o meno lontani. Le quattro copie di Han che a parte i tratti e i mille punti di counter svolgerà lo stesso ruolo di Yigurashi. Le altre tante copie di Buona Festa che fungerà da Nami Rossa bersagliando però le carte con tratto film invece che Straw Hat Crew ed infine i Beans in quadruplice copia che con 6 mila di forza a costo 4 saranno una buona macchina offensiva che vi tornerà utile per assottigliare le vite rivali. Mentre devo dare parere neutro alle due copie di Karina che essendo utilizzata solo in combinazione con carte possedenti il tratto film vedrà limitato il suo potenziale. Le quattro copie di Gordon e le altrettante copie di Scarlet la duplice presenza di Uta che vorrebbe fornire un tocco in più alla difesa come è per Boa ad esempio ma avendo a disposizione solo la parola chiave on block meno un don non so se riuscirà a innescare il suo effetto data la stragrande presenza di Event e Character che di loro metteranno KO personaggi con costo pari a 4 o inferiore vedasi King a costo 6 e Jet Pistol. E per terminare le altre due copie di Union Armada che se solo non avesse presentato quel tratto film nel box di testo credo sarebbe diventata una delle Event più giocate in assoluto. Mentre mi duole ammetterlo sono rimasto piuttosto deluso dalla doppia coppia rappresentata da Zephyr che già è forte di suo e farlo diventare ancora più forte potrà servire relativamente e Shiki che se saranno presenti 8 don o più sul terreno non potrà essere messo KO. Per il leone dorato il mio disappunto mi ha fatto soffermare sul concetto che di solito chi giocherà viola andrà ad utilizzare molte carte che spediranno i don dal gioco nel loro mazzo dedicato e di solito si parlerà di cifre che si aggireranno da una base di 1 ad un massimo di 7 e quindi non so fino a che punto potrà esprimere tutto il suo potenziale in una partita. Infine arriviamo al leader che devo dire come effetto non mi è dispiaciuto anche se quel meno 3 don mi ha lasciato leggermente interdetto ma avendoci pensato bene ci saranno supporti presenti nel viola che potranno ovviare a tale mancanza e quindi questo fattore potrà essere sistemato. Inoltre il fatto che andrà a fornire ad ogni character con tratto film più 2000 di potenza farà di carte all'apparenza insignificanti in uno scenario offensivo come Scarlett, Gordon, Karina, Han ed il Dottore Indigo delle bombe pronte ad esplodere. Ma quindi Arconte il mazzo di per sé com'è? A me personalmente è piaciuto e non poco. Certo ci saranno delle migliorie da apportargli ma la sua strategia sarà semplice e diretta. Le giocate che ho visto più spesso sono state buona festa per cercare principalmente Karina andando di seguito ad attivargli l'effetto scartando carte come ad esempio i Gordon o gli Scarlett così da aumentare i don a propria disposizione e facilitare le giocate future tenendo da parte anche le Union Armada per salvaguardare la salute di quest'ultima. In più ci saranno diverse sinergie come ad esempio l'utilizzo dell'effetto di tesoro se possiederete 10 don e di seguito l'impiego di due Ain azzerando il costo dell'innesco dell'abilità di Guild. Quindi le carte principali che costruiranno il pilastro centrale del deck saranno di certo i Buona Festa, le Karina, le Ain, le Union Armada e le Lion Street Imperial Airbind nelle fasi iniziali del match mentre nell'headgame ci saranno i Bullet con il supporto di Shiki e delle Baccarat che vi aiuteranno attraverso le loro offensive anche grazie al supporto del leader e del suo potere a chiudere l'incontro. Metteteci in quest'ultima lista anche i tesoro che non solo picchieranno forte ma vi permetteranno anche di velocizzare il processo di pescata. Per la mano iniziale quindi andate alla ricerca di un Buona Festa, una Karina o entrambi magari con una Union Armada a supporto per velocizzare al meglio la manovra di gioco e alla peggio una Ain per aumentare il numero di don sotto il vostro controllo. Se così sarà potrete procedere tranquilli altrimenti mulligan ed incrociate le dita. Questa è la lista che personalmente ho testato fondendo assieme due starter e devo dire che non si è comportata male neanche giocando contro deck solidi come il Doffi, il Croco Blu Viola, lo Zoro Rosso e il Trafalgar Rosso Verde ai quali ho dato del gran filo da torcere portandomi a volte anche la vittoria a casa. Ma sono certo che lavorandoci attorno un po' di più potrà uscire fuori un insieme di carte che nel complesso andranno a divertire chiunque si appresterà a giocarle. Ora però, dopo aver parlato dei lati positivi trattiamo quelli negativi, primo tra tutti l'unicità del tratto. Non so se e quando vedremo altri character o leader appartenere alla tipologia film e questo potrà rappresentare un vero ostacolo per la competitività di questo deck. Sì, è vero, ci sono anche i personaggi che possiedono il tratto film presenti nel promo pack di Uta, ma essendo tutti di colore rosso non potranno essere utilizzati nel mazzo di Shanks. Peccato perché vedendo le varie uscite che si susseguono mese dopo mese in Giappone non ci sarà ombra di personaggi appartenenti ai lungometraggi animati per molto tempo e ciò sarà, ripeto, un vero peccato perché personalmente mi sarebbe davvero piaciuto sfruttare ancora appieno le varie dinamiche che questo deck ha introdotto nel gioco. Dinamiche come quelle di salvaguardare la salute di un character impedendo all'avversario di metterlo KO che al momento sono un'esclusiva di Kurozumi Semimaru presente nello P01 nei confronti dei membri dell'omonima famiglia che vedranno nuovi elementi arrivare nel secondo set e dovremo aspettare addirittura la prodo della marina per vedere event e personaggi usufruire di questa meccanica in totale libertà. Se poi vorremmo prendere Shiki come elemento da considerare a parte il suo effetto non sarà minimamente paragonabile a quello di un vergo dove se gli assegnerete un don sopravvivrà a qualsiasi battaglia quindi il leone lascerà effettivamente il tempo che troverà. Per tutto ciò che resta non sarà affatto male come starter soprattutto perché lo ripeto presenterà al suo interno dei supporti per gli archetipi che baseranno sul viola la loro strategia di gioco con le presenze di Ain, Gil Tesoro, Bullet, Baccarat e Lion Street Imperial Airbind. Conclusioni. Lo starter deck One Piece Film Edition verrà venduto ad un prezzo indicativo di 15 euro. Al suo interno ci saranno dei supporti davvero interessanti che andranno a rafforzare le fila del colore viola con carte come Bullet, Ain, Tesoro e molte altre. L'arrivo di questo starter introdurrà ed esplorerà ancora più a fondo il nuovo tratto film all'interno delle dinamiche di gioco. Anche se utilizzato come archetipo di deck a sé stante divertirà chi vorrà giocarlo avendo uno stile semplice e diretto. La sua unicità a livello di tipologia potrà comunque rappresentare un difetto non da poco, soprattutto se altri elementi con tratto film non verranno stampati nel breve o lungo termine. Nonostante ciò comunque questo articolo potrà rappresentare una valida soluzione per tutti coloro che vorranno iniziare a navigare tra gli oceani di questo TCG. Quindi alla luce di tutto ciò converrà acquistare questo prodotto? La risposta è sì, soprattutto in duplice copia, per avere già da subito a disposizione i playset completi, ovvero ogni carta in 4x. Prima di concludere volevo ringraziare i signori di Loop Games per avermi dato la possibilità di recensire questo quinto starter. In descrizione vi lascerò tutti i riferimenti ai social dove saranno presenti così da riuscire a contattarli in modo più agevole. E voi darete a rosso una possibilità di scendere sul campo di battaglia o vi limiterete a rafforzare i vostri mazzi con i supporti che Shanks fornirà? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.